Nell'aula bunker di Mestra è il giorno dell'interrogatorio a Susanna Lazzarini durante la seconda udienza del processo d'appello a Monica Busetto, imputata per l'omicidio di Lida Taffi Pamio, assassinata nella sua casa di via Vespucci il 20 dicembre 2012. Condannata in primo grado a 24 anni, la Busetto è stata scarcelata lo scorso marzo dopo la confessione della Lazzarini che si era autoaccusata del delitto. Ora la sua verità è ancora diversa. Di fronte ai giudici racconta di essere stata in quella casa insieme alla Busetto e che insieme avrebbero commesso l'omicidio. Ero andata a casa della Pamio per rubare, racconta Susanna Lazzarini, lei conosceva mia madre e mi ha aperto la porta. Con la scusa di andare in bagno ho frugato in camera da letto ma la signora mi ha scoperta mentre tornavo in salotto con gli ori in mano e ha cominciato a gridare che mi avrebbe denunciata. Allora ho preso uno schiaccianoci da una mensola e l'ho colpita alla testa. Era per terra che si lamentava, ho preso un coltello per minacciarla perché la smettesse. È stato a quel punto che mi sono accorta che in casa c'era un'altra persona. Secondo la nuova testimonianza della Lazzarini che contraddice tutte quelle da lei stessa rilasciata in precedenza, la Busetto sarebbe a corsa richiamata dal trambusto e invece di fuggire o chiamare la polizia l'avrebbe aiutata a finire la vittima da prima sotto minaccia poi di propria volontà. Ho provato a strangolarla col cavo di un telecomando, racconta ancora la Lazzarini, ma il cavo si è spezzato. Allora ho cominciato a pugnalarla. Siccome non morivo ho provato vari coltelli. Alla fine la Busetto mi ha detto che non ero capace, ha preso un altro coltello e le ha tagliato la gola. Una testimonianza contestata dagli avvocati della Busetto nel corso di un lungo controinterrogatorio durante il quale la Lazzarini spiega i motivi che le avrebbero indotta a mentire in un primo momento. Ci siamo riviste in carcere e Monica mi ha detto che se avessi raccontato di essere sola avrebbe dato dei soldi alla mia famiglia, sostiene la testimone, già condannata per un altro omicidio. Poi però ho parlato con mio figlio e ho capito che dovevo dire la verità.